E' chiaro, resta l'amarezza perché perdere in finale non fa mai piacere, però la cosa certa è che l'Elos Verona esce a testa altissima dal torneo di Viareggio. Sì, siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo creato perché non eravamo la squadra più più favorita in questo torneo, c'erano anche altre squadre importanti come la Fiorentina, il Mino e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e sono orgoglioso di questo gruppo unito e adesso dobbiamo guardare il campionato che comunque stiamo facendo sempre una buona figura e quindi resta l'amarezza però lasciamo a testa alti. Cosa ti porterai dentro di te di questo torneo, di questa bellissima esperienza? Guarda, per me è la prima volta che faccio il Viareggio perché l'anno scorso giocando a Udine non c'era il Viareggio, non partecipo al Viareggio, quindi è stata l'esperienza sicuramente da ricordare, erano dei tornei più importanti d'Italia, se non i più importanti, me lo tengo dentro, me lo porterò dentro perché è stata veramente una bellissima esperienza. Ecco, tu sei uno dei volti nuovi, sei arrivato a gennaio, appena arrivato dall'Udinese e subito trasferito qua al Viareggio dove hai conosciuto questo bellissimo gruppo ed è proprio dallo spogliatoio del gruppo che nascono risultati così importanti. Esattamente, quando sono arrivato subito ho visto che il gruppo era unito, mi hanno accolto, ho braccia aperte, non c'è stato nessun tipo di problema con la squadra, anche il mister è una bravissima persona, ci mette tutto l'impegno possibile nel suo lavoro. e non si vede che mi sa che non molla mai niente, infatti per merito suo anche questo ce lo siamo meritato anche per merito suo.